Ciao a tutti, facciamo salve dietro nel tempo. L'anno scorso abbiamo parlato insieme ai grandi israeliani, che siamo dentro di un'area geografica, perché sappiamo che ci vorrebbero 100 persone per assaggiare tutta la banda popolare, e abbiamo scelto l'area marcanica. Una romena e la faremo vedere così. La seconda vorremmo che abbattassi tutti insieme a noi. È una danza molto semplice, una danza serba, si chiama scettia, che si chiama ultima camminata. È una danza che nasce proprio in una situazione come questa. La gente di festa inizia a suonare il violino e qualcuno comincia a danzare. Gli altri, per la volta, si attacchano all'accento e ballano. Questa situazione vorremmo ricrearla anche con la danza serba, che faremo così. Adesso un impulsio è una danza romena. La famiglia è una danza romana. 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 Nossi 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 Anche in Italia Nossi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.